Ci sono ricerche a tappeto su tutto il territorio nazionale. Sono arrivati alla conclusione che non avete lasciato l'Italia. Hanno messo un posto di blocco dall'altra parte dell'autostrada appena fuori città. Non credo che abbiano già bloccato le strade secondarie, ma sono sicuro che lo faranno presto. Potreste ancora venire con me? Possiamo tentare. Io non vengo, no. Ma la sede è grata se portassi Filippo con lei. Lui mi ha detto che ti ama. Sì. E tu? E tu? Sì. Sì. Io non vengo con te, papà. Lo so. Un po' ti conosco. Un po' ti conosco,三 Bo? Un po' ti conosco. Grazie per la visione!